7, 8 e 9 luglio, queste le tre serate di Novilara Arte e Gusto, un evento che da oltre un decennio, siamo da l'undicesima edizione, ha recuperato e rivisto la vecchia sagra della Tagliatella, un evento molto atteso da Novilara e ce ne sarà davvero per tutti i gusti. La bellezza di questo evento è proprio quello di creare una sinergia tra le generazioni, noi abbiamo recuperato una tradizione che stiamo mantenendo viva e rendendo un po' più contemporanea, abbiamo anche la fortuna di avere le degustazioni perché avremo le cantine del territorio, del vino, quindi i vignaioli che ci saranno nella serata di venerdì e di sabato e dei birrifici del territorio invece la domenica. Invito chiunque a guardare il programma completo perché veramente ci sono tantissimi ospiti sul nostro sito novilartegusto.it e a iniziare dal venerdì avremo anche un concorso letterario, quindi un'attenzione anche dal punto di vista culturale della manifestazione con degli artisti, anche ospiti con delle installazioni e soprattutto l'immancabile Tagliatella fatta in casa e su quello, che dire, solamente da assaggiare, provare e riprovare. Il Consiglio regionale guarda con attenzione alla manifestazione novilare arte gusto che è cresciuta negli anni e che rappresenta uno spaccato di tipicità da valorizzare sia per i residenti ma anche per i turisti. Da una semplice festa legata a un prodotto tipico che è le Tagliatelle si è trasformata in un'iniziativa che ha sempre il prodotto tipico come punto di riferimento ma che ha avuto la capacità di organizzare tutta una serie di attività anche culturali attaccate, abbinate a questa festa, a questa manifestazione. Quindi io ritengo che ci sia veramente novilare arte gusto, sia un'iniziativa molto bella e invito anche i turisti e ovviamente anche i cittadini pesaresi a partecipare perché è sicuramente un bel biglietto da visita. E poi naturalmente ci sono gli spettacoli, Ruggero De Timida per la prima serata e personaggi di Italia's Got Talent e di Zelling a completare il tutto. Esattamente, è un programma veramente ricco, siamo riusciti a invitarli tutti in un'unica edizione che forse è la prima volta che riusciamo ad avere un programma così ricco e così vario. Ruggero è un fenomeno, è un personaggio molto conosciuto dei giovani e siamo molto contenti di averlo qua da noi perché difficilmente scende dal centro Italia in giù. Invece con Andrea Fratellini, Italia Got Talent, lui ha vinto l'edizione del 2020 quindi è assolutamente uno spettacolo da non perdere e poi per chiudere Zelling perché per noi è un po' un filone classico e volevamo appunto mantenerlo nella serata di domenica.